E' lotta ai furbetti dei rifiuti a Monte Grotto Terme. Dopo l'ultimo caso di sacchi neri di immondizi abbandonati a Turri, sono partite le indagini per individuare attraverso le fototrappole gli incividi che abbandonano rifiuti per strada. Un fenomeno dilagante che spinge il sindaco del comune termale Riccardo Mortandello a parlare di piega sociale. Il susseguirsi di comportamenti recidivi, spiega il sindaco Mortandello, ha costretto l'amministrazione comunale ad adottare una linea dura. Chiediamo la collaborazione di tutta la cittadinanza. Con i controlli e le videotrappole sono state avviate indagini e procedure per moltare i responsabili. Ricordo, prosegue inoltre il sindaco Mortandello, che l'ecocentro è sempre aperto e che è possibile usufruire del ritiro gratuito degli ingombranti a domicilio. Non c'è motivo dunque per non usufruire dei servizi che sono già pagati, tra l'altro. L'invito ai cittadini è quello di non aver timore di segnalare ogni indizio utile a risalire alle persone che hanno questi comportamenti inqualificabili. Grazie a tutti.